Sposta prima questo. Dopo lo tiriamo fuori quello lì. Dammi a me anche quell'altro. Aspettalo, sta lì. Sposta indietro un po' di cucolà nel buccolato. Così non ti rompe le barri. C'è schifo il giallare qui. Semuri sembra un po' accello. Aspettami. Prima ti diamo via questo. Prima questo. Questo già andrebbe tirato via questo gancio scemo che... Volta shampoo che schifo. Eh ma non va. Alziamo questo qua. Fai il neva di lì, bravo. Viena, quando si muono un po', vedi, vengono fuori da solo. Aspetta. No. Vai di là e poi mandamelo ancora verso di me. Così fa neva e si gira. Non tirargli via... Ma vai, vai. Non tirargli via sto gancio, sto coso. Se no non riesci a lavorarci, guarda. Incastra dentro. Bisogna smollare sto dado. Pinza. Dai, due statali. Aspetta ancora un attimo Ciri. No. Da lì ti dà. Oh. Si sta ma scurta. Fa leva lì e lo mandi qua. Sposta un po' il culo di questo. Eh ma non va. No. Il culo solo lì. Il culo solo lì. Solo lì. Il culo solo lì. Solo lì. Non va quello lì. È grosso eh. Il culo solo lì. Non lo scurta di qua. Tira Robi. Robi. Fintela tira qui. Se scappiamo via ci spacchiamo il muro eh. Si scappiamo. Tira che fanno. Perché tocca lì. Ma lì. Adesso aspetta. Aspetta eh. Sotto lì. Chi te la fa lì? Sieda qui. Guarda che avete spostato anche il ragnetto. Eh non va. Oh no. Bisogna tirare da lì. Vedi che si muove. Tira via. Tira via. Tira via. Se le infili dentro. Se non gira. Non gira non esce lì. Deve girare per uscire lì. Vedi che non ha raggio per girare. Tira via. Se vanno dentro un po' di lì dopo salta fuori. Ecco. Fa finta da risolvere il rito. Più in punta che puoi. Più in punta che puoi. Più in punta che puoi. Devi girarlo quella da fare lì. Allora lì anche manca. Seva recupera una pinza che gli togliamo col gancio. E' quello. E' quello. Devi usarlo girato. Così deve essere. Vedi che fa leva così. lì. Io ti manco. Mi manco che non ci arriva. Io vi riesco a mettere qualcosa. Che sono facilità. Via. Guarda. A me va. Non ci arrivo.